Bene Ma questo riesce a registrare più di 10 minuti? Ogni 5 minuti devi rifarlo Ok, va bene Ah, o forse... no, 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 non dovrebbe Ok, vabbè, controllo ogni tanto Ci sono i tuoi pestrelli Aiuto, allora lo metto qua in mezzo Perché se dovesse cadere qualcosa Almeno lo faccio cadere Allargati, allargati con le... No, no, ci sono, ci sono Ci sono anche i tuoi pestrelli Tu riesci a sentire qualcosa? Sì Tu? Dei tenere la bocca chiusa Ok, se vuoi mettere dentro la bocca chiusa la bocca Che bello... ma questo riesce a registrare più di 10 minuti? Ogni 5 minuti devi rifarlo Ok, va bene Ah, o forse... no, 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 non dovrebbe Ok, vabbè, controllo ogni tanto Ci sono i pestrelli Aiuto, allora lo metto qua in mezzo Perché se dovesse cadere qualcosa Almeno lo faccio cadere Allargati con le... No, 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 ci sono, ci sono Ci sono anche i tuoi pestrelli Tu riesci a sentire qualcosa? Sì Tu? Oddio Dei tenere la bocca chiusa Ok, va bene Ok, se vuoi mettere dentro la bocca Biosho, blad Blad on Questa torre è un po' lontino 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 non devi farlo mai quello se non perde il focus perde la messa a focus se hai già perso lo riprende da solo ok va bene ho capito ho capito allora stiamo è vero il cavallo bianco nominato come Pegaso la forma di un presepe tradizionale un po' di cipolle un po' di aglio ecco la testa di aglio infatti è inizio di tenere la formazione del cacao forse è questo questo l'ho capito forse è la pannocchia ah questo è il fungo gigante ah che bello è vero fiore di banana dove c'è il ciaspo di carote pollo qui a sinistra bravo amore stanno dormendo tutti questi pipistrelli aiuto e qua piove no sono cocce d'acqua che arrivano dal soffitto guarda lì ecco proprio lì c'è il titanic c'è il titanic c'è il titanic guarda là c'è il titanic 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 bello 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 no amore no amore eh ma non fa no 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 ah ok non devi farlo mai quello ok sennò perde il focus perde la messa a focus lo fai c'è il titanic c'è il titanic c'è il titanic c'è il titanic io punto più o meno dove punta la torcia per vedere meglio c'è il titanic 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 perciò di corse Penn Polen Rossiglie Fuori C'è l'essai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, qua sopra... Ah, che bello... È vero, cuore di banana. Pieno... Madonna... Madonna... Pieno... 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 Grazie a tutti. Ah adesso si esce dall'altra parte? Non lo so, non credo. Non si torna indietro. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so. Ah, dici che è la stessa? Sì, sì, sì. L'abbiamo girato in tondo? Sì. Ah, sai che non me ne sono accorto? Sì, 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 abbiamo visto la stessa cosa, il fungo, tutte le altre. Allora qua siamo già verso la stessa cosa, abbiamo finito il giro. Un giro stupendo. 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 E il giro è il giro. E il giro è terminato. le valeva la piena. Le valeva la piena tutta. No, 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 cade il telefono, no, ti prego, ti prego, ti prego. Lascia stare il telefono, ti prego, ti prego. No, ti prego, ti prego. Grazie a tutti. Oh, questa parte è bella, riprendila. 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 E' stato stupendo. Alcuni dicono che è l'attrazione più bella di tutte le Filippine. Ma è fra i sette. Le sette meraviglie, sì. Oh, questa parte è bella, riprendila. 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 Banana, dammi la banana, dammi la banana. Dammi la banana. Dammi la banana. Dammi la banana. Banana. Oh, questa parte è bella, riprendila. Oh, questa parte è bella, riprendila. Oh, questa parte è bella, riprendila. Oh, questa parte è bella. vita, riprendila. Noi stiamo aspettando ancora la nostra barca dove dovrebbe essere la Fitancozzo Questa è la 3 Lì c'è la nostra guida Giuseppe che sta gestimando le sue cose E io che sto registrando questo posto bellissimo Sì, è bello Sì, è bello Sì 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 Vuol dire un punto d'incontro La capoligna Ok, welcome to Zavano Restina E poi c'è un po' di voi Ok Inizia l'inizio, infatti, intera da nepporte Da qui Sì Ah, scusami Che bella Quindi Lei è la figlia di lui Sì Un po' di voi Ehm 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 E poi quando Catriona è passata pa Palawan Sì sono incontrato Ehm Un po' di voi 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 è una bella ripresa Sì, sì, sì Cos'è che hai detto? Mamma, Sir Maglalanzo tayo vago mag tour Così mi dio Nasa registration pai Sì, sì Sì Quindi prima staggiamo E poi torniamo dietro Facciamo costando il clappo Perché ancora stanno facendo La fase della registrazione E per quello che non è rimasto Nasa Turchia Ed è rimasto di là Per fare tutta questa fila Sì 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 Di Sì 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 Qua invece che sono i villaggi o il peggio di prima Sì Sì bello il mare bello il mare eh si secondo me questi si esatto io preferisco guarda qua queste sono sono tutti particolari cottage è uno spettacolo qua poi guarda l'erba la taglia qua è tutta tagliata la terra è tutto curato ma prepara anche gai è 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 questo è quello però migliore sì sì quanto costa per esempio 8.000 per night 8.000 per night 8.000 per night 8.000 per night è è molto 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 ma per quello che tutti inglesi stanno qua ah c'erano qua la fanno qua la parte delle costume è 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 non è quindi è è è è è è è è è E cos'è Pini Pini Pilipinas? Pini Pini Pilipinas Pini Pini Pilipinas Ah ok Ehm Fanno qua la gara della Del costume Pini Pini Pilipinas Se non vanno subito Sono più di giovani Pini Pini Pilipinas Pini 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 Se è possibile Pini Pini Pini